Rémi in posizione! Meta di volta! Preparate i remi! Più veloci! Ciò è bene! Rémi in barca! Aspetteremo qui, comandante! Custode, sei qui! Custode, hai fatto molta strada per incontrarmi! Custode! Io sono Cassandra! I nomi cambiano, ma questo incarico è eterno! Tu sei la Custode, sorvegli il grande sigillo e tieni al sicuro il bastone di Ermete Trismegisto! La tua voce! L'ho sentita ad Atlantide! Ti ricordi? Io sono Aleteia! Ora che hai il bastone tra le mani, c'è una connessione tra noi! Una connessione? Cioè? Ora posso presentarmi a te in una forma che puoi riconoscere! Devi consegnarmi all'erede dei ricordi! Lei ci guarda anche in questo momento! Quando parlo con te, parlo a lei attraverso te! Non ha alcun senso, Aleteia! Lo avrà! Ad Atlantide il grande sigillo si è celato a Pitagora! Vuole essere aperto, ma non da lui! Il tuo compito è preparare l'erede dei ricordi ad aprirlo! Prometti di farlo! Dov'è quest'erede? Non dove, ma quando! Deve ancora nascere! E tuttavia ci sta guardando in questo momento! Va bene! Prometto di custodire il bastone finché l'erede dei ricordi, chiunque sia, sarà pronto a riceverlo! Prometto di custodire il bastone finché l'erede dei ricordi ad aprirlo!